Sono Giampaolo Terrone, ambasciatore della Repubblica di Ujupis, una Repubblica che si trova in Lituania, detta anche Repubblica degli Artisti. Siamo qui oggi al Museo delle Industrie e del Lavoro di Saronno, dove ci hanno ospitato per esporre una mostra di mail art che abbiamo ricevuto dai ragazzi delle scuole di Vilnius. Sono Luca Marchesi, sono un maestro di scuola primaria di Saronno, della scuola del Santuario. Con i miei ragazzi di quarta elementare abbiamo raccolto l'invito dell'Unicef, del comitato di Saronno e dell'ambasciata di Ujupis. Abbiamo preparato le buste che sono già state mandate in Lituania. Sembra che in Lituania siano state esposte all'Istituto Italiano di Cultura, per cui noi siamo orgogliosi di questo fatto. Adesso vi mostriamo le risposte che abbiamo avuto dai ragazzi di Vilnius, che ci hanno preparato a loro volta le buste in questa corrispondenza della mail art, che sembra effettivamente molto di prospettiva e di grande amicizia tra alunni di scuole diverse e di culture diverse. Come voi sapete l'Unicef è il Fondo delle Nazioni Unite che difende i diritti dei bambini e degli adolescenti. Abbiamo intrapreso questo cammino con l'ambasciatore di Ujupis per la promozione della mail art, in quanto abbiamo visto che lo scambio di culture per i bambini e i ragazzi non hanno confine. Il riscontro è stato positivissimo, perché come sempre i ragazzi, se le regole e i messaggi sono chiari, onesti e trasparenti e non si tradisce la loro fiducia, sono veramente alti. Dico che per noi adulti è stata una grande elezione, perché questi bambini neanche si conoscono, si sono conosciuti solo per lettera con lo scambio di buste e devo dire che hanno dato messaggi di amore, di amicizia, di solidarietà, di condivisione. Allora io tante volte dico che dobbiamo metterci alla pari, i grandi insieme ai bambini, perché insieme a loro possiamo costruire un futuro migliore.